Totò Cancare, uno dei ragazzi, dei tre ragazzi, sono tre ragazzi che a Piazza Armerina hanno realizzato un canile quindi una cosa concreta, si dice che a piazza i giovani non fanno niente, Totò non ha neanche 30 anni, ce li hai 30 anni? No, ancora 27 Ancora è pivellino, però già ha realizzato un canile che non è assolutamente una cosa facile da fare a Piazza Armerina parlaci di questa esperienza, in pochi mesi già mi sembra che il canile è pieno Sì, è stata un'esperienza bellissima nonostante le grosse problematiche inerende alla burocrazia Dalla burocrazia a Palermo c'è il tuo Presidente della Regione, tu non sei venuto a Piazza Sì, ma paradossalmente a Palermo siamo stati molto celeri, in tre giorni ci hanno dato il decreto autorizzativo il problema è stato al Comune di Piazza, all'ufficio tecnico che ci hanno tenuto il progetto fermo per quasi nove mesi E per quale motivo? E per problematiche inerende l'area identificata C'erano dei motivi, insomma l'ufficio tecnico, c'è gente di buona volontà o sbaglio? Ma diamolo per buona questa affermazione, diciamo che praticamente c'erano diverse diffezioni nel piano regolatore perché hanno identificato una sola particella in tutta Piazza Armerina dove poter realizzare questo tipo di strutture Senti, parliamo del canile, come siamo combinati? Da quanti mesi siete aperti? Noi siamo aperti formalmente dal 23 dicembre, realisticamente subito dopo l'epifania, dal 7 gennaio E quanti cani avete? Ora abbiamo 45 cani di struttura, dei comuni di Centuripe, Niscemi e Piazza Armerina E quindi di Piazza Armerina fate voi il servizio adesso al Comune di Piazza? No, noi non facciamo, noi facciamo, a noi hanno semplicemente dato dei servizi extra in urgenza tramite delle ordinanze del sindaco, ma il servizio di gestione ordinaria ancora è con la ditta di Caldani 7 E senti, questi cani che giranzolano ancora in città? Questi cani randaggi? Eh, questi cani randaggi... Nelle ultime settimane, insomma, ne sono stati uccisi la media di uno al giorno Praticamente, giustamente, il problema non è tanto avere la struttura perché la struttura può essere d'aiuto al momento in cui è inserito in un contesto di piano anti-randaggismo Anche perché noi, grazie alla struttura, riusciamo a fare adottare dei cani, dei cuccioli che sono stati, diciamo, preparati a vivere in famiglia come anche dei cani che devono essere, soprattutto quelli randaggi, devono essere abituati per poter ritornare nella città attraverso dei percorsi specifici Ad esempio, un cano deve essere abituato a camminare a guinzaglio, deve saper stare a casa non deve essere mordace, deve essere disinfettato e igienizzato quindi, soprattutto, i cani randaggi sono soggetti a molte malattie veneri Senti, ma se una famiglia ha un cane e lo vuole portare nel canire, ve lo vuole dare, ve lo può fare oppure no? No, praticamente, noi, essendo che siamo una struttura per custodia di randaggi prevalentemente lavoriamo con le amministrazioni comunali funziona che uno, se trova un cane randaggio pericoloso, di solito, fa la denuncia ai vigili urbani i vigili urbani poi chiamano noi questo nel regime ordinario delle cose, quando si ha una convenzione con una dita che fa questo tipo di servizio in questo momento noi lavoriamo semplicemente con le ordinanze del sindaco abbiamo un'ordinanza per prendere 10 cani pericolosi, di cui ne abbiamo presi 6 ora, gli altri 4 li abbiamo già identificati, che sono cani che creano problemi mi pare che alla Villetta ci sono diversi cani nella zona di Altacura, vicino all'ostello del Borgo se vuoi venire, ce ne sono due purtroppo, devo dire che va fatto un blauso al comandante dei vigili urbani con cui abbiamo, in sinergia, abbiamo attuato queste azioni nell'immediato però, giustamente, anche lui si vede un pochettino tagliate le mani da quelle che sono le problematiche economiche perché per ogni attività che l'amministrazione se non va d'accordo con Cimino, Gabriele? no, più che Cimino, l'assessore a ramo è... l'assessore ai cani che? di Carlo ah, l'assessore all'innocenzo alla sanità che, giustamente, secondo la sua visione, ha avviato delle attività di sterilizzazione si, loro fanno microcippatura, questa cosa di qua da una vita si, però, giustamente, dico, il problema è avere un vero e proprio piano anti-randaggismo dove c'è... ma il comune di piazza ha un piano randaggismo? tu che è un esperto di cani? ma, secondo me, è un piano che ha diverse lacune perché, secondo me, bisogna vedere di attuare anche degli stand in piazza generale Cascino per favorire l'adozione, durante diversi... cercare di portare le persone in struttura e portare gli animali vicino alla gente, che è la cosa fondamentale giustamente, dico, se tu non conosci il cane nella sua forma, nella sua inderezza te lo prenderesti come animale a casa perché oggi c'è la canofobia, diciamo, utilizziamo questo termine improprio che è quello che, quando si vede nei cani, si vede semplicemente un pericolo sociale senti, ma se Mattia fa il sindaco, gli deve fare l'assessore e dice che... ma, mai dire mai, può darsi che faccia l'assessore con qualche altro sindaco come, tu sei dell'MPA? no, 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 io sono un fedelissimo autonomista sono aperto, come tu pensai, d'altronde collaboro anche con te sotto molti punti di vista ma che c'entra? Noi facciamo progetti di sviluppo locale che vanno da destra a sinistra secondo me la politica oggi serve poco a sviluppare la città ci serve mettere insieme tutte le forze attive della città e fare un vero sviluppo non serve a niente dividersi oggi, quindi la politica siccome divide oggi serve poco a niente ma infatti io sono molto propenso a quelli che sono i progetti di unione dove le persone che sono capaci e hanno voglia amministrano la città ma lo fa l'assessore, se Mattia fa il sindaco gli lo fa l'assessore? se Mattia mi vuole dico perché no, lo farei ben volentieri l'assessore non perché mi ritenga superiore ad altri ma semplicemente perché ha dimostrato i risultati che fino ad oggi ho raggiunto sia con il canile e se ti chiami a Manigrelli a fare l'assessore? sarei ben lieto di sedermi con lui e discutere sul ruolo, su questo ruolo d'assessore va beh insomma parliamo del canile che era una cosa che era a parte le divagazioni simpatiche quindi adesso avete ancora posti liberi dentro il canile? si ancora abbiamo una quindicina di posti liberi una ventina di posti liberi oltre ai cani prendete anche persone? ci hanno provato, se mi ripagano la diaria giornalmente magari stia contando l'estido di 400 grammi di mangive va bene potremmo togliere qualche scherzacano va bene, ti ringrazio Totò, grazie per questa esperienza del canile che è veramente interessante si è parlato tantissima persona di un canile, critiche, controcritiche poi alla fine l'abbiamo fatto quindi applauso a chi fa le cose e non a chi critica ciao www.agustinostella.it Totò Cancare dell'Avis presidente dell'Avis no io qua si ma quante cose fai tu da un lato sei dell'Avis dall'altro lato c'hai i cani giustamente dico quando le cose noi dobbiamo, siamo la politica del fare no Agustino? bravo dico poche parole e molte fatti prima dico mi piaceva rispondere sul giornale e fare gli articoli e invece mi piace molto di più lavorare e fare parlare i fatti oggi ho la fortuna di rappresentare due delle realtà più attive e più operative del territorio di Pezzermidina uno sotto un punto di vista sanitario e l'altro dal punto di vista economico e sociale uno è il canile, uno è l'Avis sono realtà che sono spundate dal nulla nel senso che sono potenziate e dico questo significa che se un giovane vuole non si deve abbattere davanti alle problematiche deve portare avanti i propri obiettivi bravo Tottor, sei un esempio per tutti i ragazzi di Pezzermidina ciao